La nostra attività è un'attività di bonifica per la presenza di esche boccone avvelenati, che può essere un'attività preventiva dove si interviene in zone dove in passato vi sono state trovate delle esche boccone avvelenate, ci sono state delle morte per avvelenamento che possono essere animali sia selvatici che domestici, oppure un'attività d'urgenza richieste da parte dei sindaci dove vi è stato il rinvenimento di una carcassa di un animale selvatico o vi è stata la morte di un animale domestico denunciato dai relativi proprietari, quindi si interviene e si va a bonificare la zona per evitare ulteriori conseguenze. La priorità nostra sicuramente durante l'attività addestrativa e operativa è il benessere, la tutela del cane che è in tutto e per tutto il nostro collega di lavoro. Durante l'attività addestrativa non si usa mai il veleno, si usa solo dei odori di veleno che sono mai pericolosi, quindi il lavoro è sempre effettuato in piena sicurezza. Questo è Baro, è un grigione di due anni che ha iniziato l'attività con me a luglio dell'anno scorso. È veramente importante aver creato un buon rapporto e aver lavorato bene per evitare i danni che possono subire. Grazie.